Ciao ragazzi, qui Raziv e benvenuti su Mortal Kombat X Questo gioco l'aspettavo da tanto ragazzi, è uscito ora finalmente E dopo aver scaricato ben 27 giga Siamo pronti per una nuova avventura con la storia Ecco il primo video Ora... Milioni di anni addietro, Shinnok, uno degli dei anziani Vole colpire a tradimento i suoi pari e invase la terra Raiden e gli dei anziani fermarono Shinnok Rinchiudendolo nel regno occulto Altri seguirono le orme di Shinnok Come l'imperatore del regno esterno, Shao Kahn Possessionato dalla conquista della terra Così Raiden spinse gli dei anziani a creare il torneo del Mortal Kombat Questa fa dare combo bestiali ragazzi Dando una chance alla terra Per generazioni Shao Kahn seguì le regole degli dei anziani La guerra si spostò nell'arena Dove gli mandò i suoi combattenti a sfidare i migliori difensori di Raiden Nel Mortal Kombat Due anni fa, lui persi Ma Shao Kahn non accettò la sconfitta Violò tutte le regole del Mortal Kombat E invase la terra Gran parte dei difensori, i nostri amici, morirono Divennero malvagi guerrieri non morti Nonostante questo, fermammo l'invasione di Shao Kahn Per punizione I dei anziani lo distrussero Credevamo che l'incubo fosse finito Ma ora scopriamo che Shinnok stava manipolando gli eventi L'invasione di Shao Kahn La sua morte Era tutto parte del piano di Shinnok Per fuggire dal regno occulto E riprendere la guerra contro gli dei anziani Ragazzi, non ci ho capito un cazzo Ebbene sì E spara bene un po' Ciao Ciao, girati, bello Ciao, bello Ti dicono che sono molto amichevoli Capitolo 1 Johnny Cage La meta è qui davanti Hai portato giù senza problemi, giusto? Come sempre Se con sempre intenti quasi mai Maggiore? Maggiore lei Ma l'hai di tu il maggiore? Papi Torna di poche parole Va bene Avete le coordinate del rendezvous Al confine della foresta Da lì andremo al portale per il Tempio Celeste di Raiden Dove ci aspetterà un infuriato ex dio anziano insieme ai suoi diavoli Dai Portali Demoni volanti Tizi ciechi con spade magiche Sì, il mondo è cambiato In peggio se non riusciamo a cacciare Shinnok dal Tempio di Raiden Vuole avvelenare la forza vitale della Terra Il Jinsei E noi non lasceremo che accada Io e Ken ci apprezziamo che il maggiore ci permetta ad unirci a voi Prenderemo a calci il culo sudo di Shinnok da qui al regno occulto E atterrare questa gente Chi è Scorpion o quello? Perché ha lanciato quella scuola trampina? Perché Scorpion non è l'abilità userata? Eccolo! Mamma mia ragazzi, io amo Scorpion È il mio giocatore personale Oh no, ho sbagliato Ma che è che rovere io? Ah ma così sono i... E sono ridotto dalla Playstation No, tutti, mi sto sbagliando Mi danno il bonus se perdo contro tutto Beh, beh Oh 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 cazzo cazzo Non le so io i colori Oddio Cage, va bene che gli ho sbagliato tutto Però muoviti, alzati Chi sei tu? Chi è questo? Maro Boom Ah Niente Oh, io non li so I tasti ragazzi Mi metto qua davanti Ho capito Affanculo Dai, dimmi il colore Dai Dai strega Comanda colori Che schifo Ok, ok Che colore, che colore B Premuta La prima skill che fa Ok Poi, poi, poi Che devo premere Ci sono Vedi i colori Non rompere l'aereo Stronzo X No Bastardo Li so i colori Oh cazzo Eh, no, 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 no Sì, vabbè Arrosto Finalmente Io qua sbaglio i colori Ma tu muovi Ehi, alè Giallo Ciao, bello Cadi Ma che sei carino Guardi No No, madaf***a Devo combattere contro lui No Certo L'aereo che non scoppia Giustamente Questa che sviene Il maggiore che sviene Io combatto contro la scorpione Va bene Ma qual è il problema Non ce n'è il problema Dai, dove è scorpione? Eh, 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 eh Così dai da spazio La fine è vicina Lo dico io Dai un pochino esagerando o sbaglio Bravo Vieni qua, cretino Eh, eh, eh Ah, eh, eh Eh, eh Eh, bello Ah, vaffanculo Pezzo di me Ah, ah, no, no, no No, non mi fa Ah, vaffanculo Finisce Ma vaffanculo Tu mi stai sparando L'ho sparato No Uuuuh Uuuum Pem Brutality, per favore Per favore, fai blu Brutality L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo Ma no No, no No Ma che cazzo Ti rompere Oh Ti stai calmo Ma stai scherzando Oh Hai finito Hai fini Hai fini Oh Ma vabbè Ti rompere Oh Ma la vuoi finire Vieni qua Vieni qua Ti rompo tre gambe Tre gambe, certo Ma io non ne la vediamo più Questa, ti dimmi Non lo so Cosa fa Lasciami stare Ai, ai Ah Ah, cagare Ah, no 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 E non lo conosco Sto personaggio Però Mamma mia Sto faccia di merda Vieni qua Uno Due Tre Affanculo Ciao Bello No Fammi fare la fatality Ma Ma che cazzo vuol dire La fatality Ma io fare la fatality Comunque ragazzi Io Con questo Con questa uccisione Così scalta La facile Facile In un colpo solo Vi saluto Come primo episodio è tutto Ditemi che ne pensate Nei commenti E soprattutto io Appena finirò ora La storia Poi Se qualcuno di voi Ha il gioco Potremmo fare pure online Quindi basta che mi scrivete Un commento Con scritto Io ho il gioco Oppure ditemi Che campione Usare nell'online Che lo farò Vi ricordo di mettere Mi piace Commentare E iscrivervi al canale Qui da Resiv È tutto Bella